Quinta corsa premio Quirinale 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 Quintetto Quinto di testa che è molto compatto al paletto dei mille due completati in uno ventisette e nove con Francisco Santos che però sbaglia mentre Flash Call si affaccia in terza ruota e sta superando Flint Dipa. Lungo la corda c'è sempre Flacafont. Flacafont dalla corda prova a liberarsi Felici di Spav. Lo scatto di Flash Call che sta prendendo nettamente il sopravvento su Flacafont. Poi Felici di Spav Flint Dipa che con gran coraggio rimane ancora a lottare. Flacafont ha chiuso la partita. Vince con Enrico Bellay davanti a Flacafont mentre Felici di Spav all'interno ha ragione di Flint Dipa per il terzo posto. Vince il favorito Flash Call. La corsa gli è anche venuta bene con la scia dell'attaccante Flint Dipa e la lotta tra lo stesso e la battistrada Flacafont. Flacafont vince Flash Call. Enrico Bellay per Afrin Schmidt dai colori da Scudia a Rodà. 1,58 e 6 sul mio cronometro. Quarto finale più lento in 30 e mezzo dovrebbe essere media intorno all'1,14 e 6 per Flash Call che vince nei confronti della battistrada dal via Flacafont e di Felici di Spav per i numeri 3, 5, 6. Questo è l'arrivo ufficioso della quinta ai Capannelli. Linea allo studio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.